Verranno effettuati dei lavori per quanto riguarda la copertura per eliminare le infiltrazioni di acqua, non solo eliminare ma i rifacimenti di tutta la copertura, quindi proprio per risolvere questo problema che può danneggiare ulteriormente a livello strutturale la scuola, ma soprattutto dovremo anche spostare i ragazzi che sono al primo piano, al piano terra. Inizieremo a breve, appena la regione Abruzzo il settore finanza ci farà un comunicato, noi ci adopereremo immediatamente e l'obiettivo è quello di concludere i lavori e riportare i ragazzi con il nuovo anno scolastico 2019-2020 a settembre in quella struttura. Il De Cecco di Pescara è stato ammesso un finanziamento per 2 milioni e 3, questa è un'anticipazione di quei 2 milioni e 3, quindi sotto il profilo strutturale, sotto il profilo antincendio, sotto altri profili anche igienico-sanitario dovrà essere attenzionato. Quindi adesso faremo un intervento per riportare i ragazzi, per eliminare quel disagio di trasferimento per i laboratori quotidianamente dalla Di Marzio alla De Cecco e tamponeremo questo problema di infiltrazione che va a malorare ancora di più la struttura e poi ci sarà un intervento a seguire consecutivo proprio per eliminare altri problemati come ho detto prima. Gli interventi sono tutti prioritari, ogni scuola ha la sua priorità, questo non è un intervento come ho già detto prima perché la De Cecco ha una priorità su un'altra scuola, no, non è questo il motivo. Il motivo è perché lì si va a pregiudicare una struttura e quindi il problema è che 2 milioni e 3 poi non erano più sufficienti per intervenire. Invece altre scuole hanno tutt'altra priorità, comunque rimane una priorità e abbiamo diversi interventi programmati per le altre scuole. Adesso ci stiamo adoperando e stiamo sensibilizzando la regione perché siamo stati ammessi a finanziamento anche nelle altre scuole nel programma triennale 2018-19-20, però adesso deve arrivare il decreto per il trasferimento dei fondi se no non possiamo intervenire in quanto non possiamo attivarci per progettazioni e impegno di lavori.